bello a tutti ragazzi qua ben grafi siamo qui oggi con questo nuovo video oggi come potete vedere siamo di nuovo con un video format simile a quelli che facevo prima quindi vedete un po di clips and fails anche se non vedrete le clip migliori che ho preso in questi giorni perché l'altro ieri avete visto un video appunto dove dicevo che ero molto indietro con le clip di livetan 2 però in questi due giorni tra un video e l'altro ho hittato due clip assurde che ci saranno tutte nel montage non le vedrete spoilerati qui perché sennò starei spoilerando tutte le clip del mio page e quindi vi lascio a queste questi piccole clip e fail che ho registrato alla fine del video ci sarà l'estratto o gli estratti per il video della lotteria quindi bella guarda dove cazzo sei che c'era la tänazione porca troia Dove siete? Dove siete? Cazzo C'è questo mio canale? Oddio No Poteva essere molto meglio di così, eh, onestamente Oddio Cazzo Prenderò un collateralo ogni tanto fa male alla salute, vero? Oddio, cosa ho fatto? Cosa ho failato? Cosa potevo fare? No A parte che Il tipo me l'aveva splittato connettendosi in faccia di culo Dai, perché non viene fuori nessuno? Dio, no, 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 no Non può non essere kill chain, eh? Non può non essere kill chain questa roba qua Mega uccisione, cosa? Ok, ragazzi, ora passiamo all'estrazione Vi dirò come ho numerato i commenti Ho numerato a seconda di come erano arrivati i commenti Uno Ixos, web Due, lotel Tre, vezio, g Quattro, zvk Cinque, bitches Sei, dream Sette, s5mica, ps3 Otto, socks, air, k, r, n, k Nove, g, j, o, e morti Dieci, dax Undeci, passion 12, rexodex 13, hails, ps3 Alberto Calegari, il 14 Lacon, il 15 Decal, il 16 Kill, il 17 Krix, il 18 Getty, il 19 Solari, il 20 Tundi, il 21 Rasta, il 22 Elicroff, il 23 Jolly, il 24 Fluo, il 25 Jody, il 26 Karma, il 27 Dualboops Complimenti per il nome Era il 29 Scusate, c'era Marco Vercia, il 28 Freddy, il 30 Atage, il 31 Vitals, il 32 Wayne, il 33 Luke, il 34 Relay, il 35 Grindy, il 36 Filo, il 37 Janstube, il 38 Ciao, Jan Flair, ciao, Flair Il 39 Tarzanable, il 40 Snow, il 41 Stead, il 42 Vex, il 42 Toro G, il 44 Shard, il 45 Sisma, il 46 Cache, il 47 Lau, il 48 Euphori, il 49 Silo, il 50 Giorgio Comino, il 51 Cole Mandawan, il 52 Adesso farò l'estrazione Sto usando questo Allora, abbiamo quindi 52 persone Quindi, da 1 a 52 Come potete vedere Adesso vi faccio vedere un po' Come potete vedere Sto usando un programma che fa Tra 1 come minimo e 52 come massimo Adesso farò l'estrazione In diretta In diretta Stiamo estrai Il numero 6 Quindi Il fortunato Attenzione È Dream Il mio iscritto da un sacco di tempo Oggi caricherò due video Due video Perché caricherò anche un video dopo questo Quindi state comunque attivi sul canale Ci vediamo alla prossima Bella